La scomparsa di documenti dei difensori dei detenuti dai computer del Pentagono fa accendere ancora una volta i riflettori su Guantanamo. Diversi legali hanno ottenuto il rinvio delle udienze preliminari, sostenendo che le mail inviate ai loro assistiti sarebbero state sorvegliate. Da due mesi nella prigione è in corso uno sciopero della fame, cui è aderito gran parte dei 130 detenuti. Alcuni ricevono l'alimentazione forzata, una pratica condannata dalla Croce Rossa. La questione di Guantanamo è bloccata a livello politico in questo paese, dice il presidente Peter Maurer in missione a Washington. Un messaggio importante che ho espresso a tutti i miei interlocutori statunitensi negli ultimi giorni è stato che quest'unpass è insostenibile. Il presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa ritiene che Barack Obama sia ancora convinto di voler chiudere la prigione. Il capo della Casa Bianca si era impegnato a farlo entro un anno dalla sua investitura nel 2009. Resta un obiettivo, ma non esista ancora una scadenza.